Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Continuano le voci di mercato che accostano a Mergogiac alla Fiorentina Sulle tracce del giocatore c'è anche l'Atalanta Per acquistarle ha tese un vero e proprio duello di mercato durante la sessione estiva Intanto per la mediana attenzione all'interesse di Viola per Gioffre con Dogbia L'ex inter in uscita dal Valencia potrebbe fare a sorpresa rientro in Italia Intanto secondo quanto riportato da Tutto Sport La Fiorentina sarebbe molto interessata alla situazione di Riccardo Calafiori Terzino sinistro classe 2002 La concorrenza resta alta e anche la Juventus è già uscita allo scoperto Con l'intenzione di chiudere il colpo Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda La voce del tifoso Viola